Sono partiti i lavori di rifunzionalizzazione del pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andrea, operai a lavoro per la prima fase degli interventi, quelli riguardanti la zona adiacente e la sala di attesa per la realizzazione di un nucleo assistenziale avanzato. Dopo la zona verde si passerà alla zona rossa che sarà riqualificata con un ampliamento della stessa, un punto particolarmente sensibile dove vengono gestiti i casi più gravi, lavori che rispondono ad una serie di criticità riscontrate ultimamente al pronto soccorso del Bonomo, tra lunghe attese, spesso oltre le due ore per i codici gialli e verdi e solo per fare un esempio una sala d'attesa con sedie rotte. Dettagli non sfuggiti ai cittadini che hanno lamentato numerosi disagi. Tornando ai lavori si stimano circa 90 giorni per il completamento. Prevede la realizzazione di un ambiente in cui sarà ubicato il nucleo assistenziale avanzato con sette postazioni. Questa sarà una prima fase. Successivamente sarà cantierizzata anche la parte dove attualmente c'è la sala rossa che verrà ampliata aggiungendo un'ulteriore postazione. Inoltre verranno rifatti oltre a tutti gli impianti elettrici, linee LAN, anche l'impianto di trattamento aria. Intanto il pronto soccorso è stato sistemato in una zona provvisoria per non ralentare o fermare l'attività. Disponibili anche i servizi igienici nella parte cantierizzata comunque accessibili. Restano tuttavia le lunghe ore d'attesa a cui spesso sono costretti i cittadini. Tra le cause c'è anche un numero di personale insufficiente. Nonostante l'ospedale di Andrea, lo ricordiamo, risponda alle emergenze più gravi per tutto il territorio della BAT. A tal proposito il primario del pronto soccorso, il dottor Tiziano Valentino, si dice fiducioso. Questi lavori sono utili proprio per ridurre quelli che sono i tempi di attesa. Perché sui codici maggiori è chiaro che l'accesso immediato, perché parliamo di casi con pericolo di vita. Però per i codici minori è chiaro che le attese sono molto più lunghe nel momento in cui ci sono degli spazi che per quelli che erano davano la possibilità di poter assistere in tempi scaglionati, ma non lunghi, ma che potevano diventare lunghi. Con questi lavori di difunzionalizzazione dovremmo ottenere sicuramente una drastica riduzione di Tiziano Valentino.